signori siamo arrivati al momento è arrivato il momento della gara di miami siamo su fb 1 ms 2022 ed è arrivato il momento che tutti stanno aspettando cioè la gara di miami che adesso andremo a provare a fare ragazzi siamo qualificati quinti ieri abbiamo visto con gasli e noni con pucchiere eccolo lì per questo da quinto potrebbe fare delle gran cose vediamo a lui si chiama il secondo pilota dell'alfa tauri non ha un nome si chiama semplicemente il secondo pilota dell'alfa tauri bene bene il secondo pilota dell'alfa tauri sarebbe tipo uno stronzo abbiamo preso lì era un barbone gli hanno detto vuoi andare a fare una corsa sulla formula 1 vabbè per un panino no no proprio per 4 5 milioni all'anno allora seguiamo gasli e andiamo a vedere che fine fa se riesce a fare qualche sorpasso oppure no vai vai gasli vai attacca su un po di quella roba lì forza dagli dagli del gas dai che ce n'hai di più buttati fuori così all'esterno all'interno e poi per superare l'esterno all'inseguimento di signs che è quello che ci interessa più di tutti non è vero però peres tra un po ci risvernicia ancora tranquilli guarda ma come ci prova attenzione sul rettilineo ne abbiamo molto di più di signs di carlos attenzione riusciamo a sorpassarlo con scioltezza insomma con scioltezza mica tanto però è già tanto che siamo riusciti a farlo e all'inseguimento di verstappen mamma mia che non si scollerà mai dalle clerk però proviamo a vedere allora stiamo spingendo con tutto e fin qua ci sta però porcaccia la miseria siamo all'inseguimento di verstappen che non è roba da poco che tra l'altro è incollatissimo alle clerk quindi non penso che riusciamo a fare chissà che attenzione lui sbaglia inchiodata di brutto da parte di verstappen ci buttiamo l'inseguimento di charles le clerk con il ferrarino siamo con l'alfa tower ricordiamo vediamo vedere questo sorpasso che se l'abbiamo già visto attenzione perché lui qua inchioda non si capisce il perché però ha detto vabbè io qua seguete che faccio un ancora gliela butto giù e così ha fatto va bene attenzione perché superiamo anche le clerk e adesso signori signori potenza a tutto chiodo e vediamo di riuscire anche a separarci a distanziarci di un secondo di vantaggio dalle clerk e poi proviamo a mettere le gomme standard normali spingiamo solo con il resto mondio cazzo siamo premi sul serio io non lo so allora durerà poco è però se riesco a distanziarmi dalle clerk adesso io vado tutto di potenza qua e vediamo se le clerk riesco a tenermelo un po dietro anche se non credo di riuscire a dargli un secondo prima del drs anche perché il drs ci sarà nel prossimo giro ma no con tutto il motore aperto tutto ma mi sta già a un decimo quindi qua adesso lui potrà usare il drs ci verrà a riprendere però noi stiamo dai cazzo vedendo che forse forse la batteria lo so che è prosciugata però vai neutro per adesso tanto tu non è che anzi puoi anche farmi un po di accumulo e come sta la cucchiere poi ci guardiamo fammi vedere quinto vabbè quinto per te è tantissima roba quindi vai equilibrata con il motore con le gomme no tu con le gomme spingi a bestia tu spingi a bestia perché tanto le cambia subito te puoi spingere finché vuoi con il resto no ok qua andiamo neutro e vediamo le clerk 06 quindi adesso qua potrà usare il drs ciao è finita la cuccagna ci abbiamo provato e ci abbiamo provato usare tutta l'energia residua per riuscire ad allontanarci ma non è stato possibile le clerk ci risupererà perché senza drs è un po così infatti c'è già attaccato le chiappe guardate ma da dove eccolo guarda insomma c'è la ferrari ok noi già sta è stato già tanto che siamo riusciti a resistere in prima posizione per un giro no vediamo che succede magari si schianta che ne sapete io ci vado anche di accumulo qua ma vediamo non riesce a superarmi che cazzo succede no no tieni un po vabbè qua con le gomme però devo per forza tirarle giù il regime perché se no qua va qua vai 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 le clerk passa pure è purtroppo è così il problema è che adesso verstappen è a meno di un secondo da noi e quindi anche lui potrà usare il drs science invece no science è dietro bene quindi lui non lo potrà usare ma vediamo se verstappen riusciamo a dargli il drs vediamo restappen un attimo chi c'è davanti verstappen siamo noi questo ma no vabbè ok no riscazzo ma era 08 ma me lo sono trovato a culo 09 ok va bene non credo che riesca a superarci non lo so perché anche noi adesso abbiamo il drs lo prendiamo dalle clerk vabbè poi andiamo a vedere adesso cazzo lì apri il drs spalanca l'ala per favore ok ci siamo avvicinati ancora un po' alle clerk infatti verstappen non riesce a passare siamo a 7 8 decimi ecco se te lo perdi sono cazzi però eh va benissimo così andiamo sempre a velocità doppia raga tanto velocità normale la usiamo solo per i le cose su cose su cose no porca puttana non sta cazzo andare sopra il secondo sennò ti ti sparo la mamma eh vai dai che dobbiamo usare il drs drs l'abbiamo usato non so come stiamo a cumulo ah si ecco perchè ok vai 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 standard standard vai standard e adesso usa pure tutto il tuo ok come si chiama sta roba qua lrs e vai eh anche tu vai in di neutro che stiamo a posto ok è tornato settimo avendo il lrs spento eh quindi non tanto vabbè un po' così la cosa ho paura a sorparare questo coso qua cioè l'eclare perchè penso che se noi superiamo l'eclare lui ci svernisce e ci svernisce anche verstappen indietro quindi non so se è una bella idea allora ci stiamo ok questa non era l'idea che volevo però dobbiamo poterci un po' di sorpasso qua se lo utilizziamo vediamo se riusciamo a sverniciarli un attimo qui il drs era quello il retilineo da sorpassare non questo eh però se riesci non inchiodare eh ok non inchiodare porca c'è la misera non sta a inchiodare non è niente inchiodato perfetto è una roba 29 neutro che stai a posto così lo usiamo dopo eh ok ragazzi è inchiodato vabbè ci avviciniamo qua con il dr e con il con la scia ok e qua adesso mettiamo sorpasso e vediamo se in queste curve riusciamo ad usare un po' della nostra energia per riavvicinarci spalancare l'ala si ma mettiti dietro in scia però stare a guidare così no eh la batteria è prosciugata vai neutro dai vai neutro vai neutro che sennò qua ce li perdiamo allora attenzione perché Verstappen va ad attaccare le Clerc si vanno a disturbare un po' a vicenda questo ci avvantaggia neanche tanto ma le Clerc si difende bene perché rimane davanti noi siamo terzi non che potessimo mazza se abbiamo perso che è successo oh e vabbè niente ragazzi è finita la nostra corsa è finita qua stiamo accumulo no stiamo neutro così perdiamo di brutto comunque adesso noi non usiamo il DRS e loro se ne vanno ragazzi se ne vanno di brutto molto bene io credo di accontentarmi di questa posizione qua per adesso e vedere se le strategie poi cambieranno qualcosa a lungo andare perché qui Piaggia non c'è neve no perfetto tu come stai messo con le gomme le stai massacrando vai standard da là un po' e niente raga io qua torno a regime normale ma vediamo anzi se è possibile vedo caricare un po' la batteria ok anche tu magari qualche carichina me la dai è completato vabbè allora vai neutro scusa non avevo capito ok andiamo a vedere ragazzi un po' di giri così vedere che succede tanto qua ormai ci rinunciamo abbiamo perso science dietro il culo oh cazzo che palle science ce l'abbiamo a culo e vabbè che devo fare neutro vediamo se riusciamo a tenere distante science assolutamente non è vero mazza si è guadagnato science però porca miseria noi siamo 4 secondi dall'eclare figuriamoci quello se ne è andato già da da mo' adesso abbiamo science dietro che porca però lì caputano hai carlos capisco che tu c'è il ferrarino niente c'è già culo raga vabbè sti cazzi proviamo ad andare avanti tanto ci supererà anche lui al ferrari quindi eccolo là noi possiamo ok noi possiamo guadagnare qualcosa adesso equilibrata avendo il drs cioè non perdiamo science perché lui adesso ha campo libero davanti quindi riusciamo a stargli dietro senza perdere un po' troppo e sfruttare la sua scia il suo drs per allontanarci da ancora un po' di più da peres e magari chissà avvicinarsi anche agli altri non sarebbe male noi qua che facciamo lo usiamo il drs si eh però lui è molto più veloce lui è molto più veloce io starei così per il momento il carburante è quel che va bene diamo lo scontro attenzione neanche il sorpasso proviamo serio così ci stacoliamo vicenda quindi però entrati nella finestra dei box quanto sta a 42 va benissimo ce l'ho di fianco no ce l'ho dietro ok una posizione guadagnata per l'alfa tauri si si l'abbiamo vista in diretta va tranquillo puoi chiaro andiamo a vedere un po' come se la cava lui è a un secondo e otto da emilton vabbè cioè non è che no no possiamo stare lui andiamo a vedere il nostro casli sicuramente si schianterà perché lo fa sempre quindi 6 eh più 6 più 7 ma come vanno gli altri ma c'è un altro un altro pianeta ma noi veramente stavamo davanti a quelli porca miseria eh però stiamo facendo da tappo per carlos quindi tanta roba allora tu stai entrando nella finestra dei box ok adesso ci fermiamo eh si provo a tenere la strategia che volevo fare andiamo a mettere le dure box in questo giro ok con le gomme puoi spingere all'attacco tanto non servono più andiamo a vedere carlos scusate andiamo a vedere gasli che sta lottando con carlos sainz vai così buttacela buttacela un po' di quella roba dai vai ma lancia la puttana solo che noi con le gomme le abbiamo praticamente disintegrate e non ci arriviamo mica alla finestra dei box qua abbiamo abbiamo spinto un casino con ste gomme fare un giro risparmio non è che anche perché le gomme se noi le mettiamo perdiamo tantissimo con le gomme risparmio raga per l'altro vado a spingere di più allora proviamo a fare una cosa spingo di più col motore e provo a stare leggero sulle gomme vediamo se riusciamo a guadagnare quel giro in più magari 7 8 eh TRS ci avviciniamo non proprio ci avviciniamo dai 5 4 eh per quanto cazzo perdiamo stando leggero con le gomme mamma mia 4 decimi 5 decimi eh 5 per perdere l'effetto scia no vai standard 9 dai mi serve il DRS ok andiamo a vedere Pukier che fa il P-stop eh no che l'ha già fatto tra l'altro quindi è uscito con gomme hard lo possiamo tenere anche a spingere con ste gomme quindi vediamo andiamo per un po' o le conserviamo vediamo un po' Pukier adesso è uscito quattordicesimo secondo me no per adesso no non spingere basta che le scaldi e stai stai un attimo lì poi ci guardiamo a spingere con ste robe ok andiamo a vedere sempre eh merda non ci arriviamo non arriviamo neanche alla finestra dei box quindi dure dure eh eh gli altri come le hanno gestite le gomme la stragrande gazzo ah però Sainz ha le dure ecco perché ecco perché riesce cioè nonostante tutto ci sta davanti eh però capite perché era un po' più lento no lui ha montato le dure cristo la strage inversa noi lo mettiamo adesso quindi poi lui probabilmente monterà le medie ciao 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 a tutti bene perfetto era proprio quello che volevo allora carburante per adesso poi va equilibrata possiamo anche risparmiare non po' che così almeno stiamo dietro a a Carlos e vediamo raga quale con me mi dispiace ma devo andare ai box in questo giro andare ai box in questo giro vero vediamo eh sì box in questo giro perché se io gli lascio perdere aderenza perdo per lo Sainz perdo Sainz box in questo giro metto le hard non è uscita neanche una safety car quindi vabbè se no le cambiavo però non è detto ancora che non può non può ancora uscire la safety car quindi noi risparmiamo le nostre hard vediamo allora lasciamo andare avanti Sainz barra Carlos e andiamo a fare il pit stop mettiamo le bianche e usciamo via 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 dai con quel con quel con quell'ingresso dalla pit lane ok siamo ancora in zona punti tra l'altro quindi poi gli altri si dovranno fermare il carburante mi sta bene così andiamo a vedere la temperatura degli pneumatici ah ma stanno già a posto incredibile ma quanti gradi ci sono vabbè il traccetto ci sono 46,6 gradi è proprio caldissimo però probabilmente è sufficiente perché le gomme sono già in temperatura ok va bene carburante stiamo un po' così lo risparmiamo un attimo e vediamo come stiamo messi verso la fine andiamo a vedere i pit stop degli altri Hamilton si ferma i box adesso e andiamo a vedere che cavolo di gomme mette Hamilton mette le dure anche lui ok chi è che si ferma vediamo un po' hanno tutti le medie tra no Perez e Sainz Leclerc ha allargato la traiettoria dove cazzo l'hai visto fuori traiettoria tu però vabbè Verstappen va a cambiare i box a cambiare le gomme ai box c'aveva le medie e rimette le dure giusto si poi Russell Alonso Bottas e Norris abbiamo tutti mettono tutti le hard Leclerc anche lui adesso va a mettere le hard poi Sainz e Per si fermeranno e metteranno le medie penso siamo tornati terzi non so come aspetta si terzi dietro Carlo Sainz che ha più 8 da noi però ha delle gomme molto più performanti quindi vediamo vediamo se riusciamo a resistere noi le nostre hard sono già l'80% si abbiamo tempo per recuperare il fuel please chi è questo che abbiamo dietro scusate scusa eh che cazzo scusa è qua il tempo che cavolo di oh più 8 ah no dal leader più 8 eh l'intervallo è più porca miseria ce l'abbiamo proprio toccato le chiappe e vabbè merda guarda qua guarda come spinge quindi margine di carbonato ridotto io quasi quasi ragazzi lo faccio passare sto qua e e vediamo che mi dice se riusciamo a guadagnare un po' più di carburante potrebbe succedere ancora un po' di tutto una safety car una virtual qualcosa qualcuno che si schianta basta che non sia il nostro compagno di scuderia e noi recuperiamo sto carburante però senza il passato adesso noi possiamo usare il DRS eh lo so però è la Ferrari che ci vuoi fare più 8 era da Verstappen mi sembrava strano che ci fossero dei distacchi così ampi e invece qua noi perdiamo a cazzo sull'idea le medie vediamo se riusciamo a tenere ehm un po' di conservativa per questo giro almeno durante il DRS e un po' di conservativa ecco la modalità motore non cambia così tanto vedete i distacchi mentre le gomme in conservativa c'è il giro più veloce in conservativa questo eh vabbè contenti voi non lo so che cazzo è successo no aspetta troppo veloce eh abbiamo fatto due giri in modalità conservativa e vediamo che vedete comunque stiamo lì a gas lì avendo scia e DRS non non perdiamo tanto ma adesso esce la safety una virtual e noi tutto sto lavoro qua se lo stiamo facendo per niente però se non esce non arriviamo è quello il fatto quindi è meglio essere sicuri di qua con le DRS vedete ci avviciniamo ok perdiamo sì ma perdiamo poco perché ci avviciniamo in quel grande rettilineo là e poi dopo qua stiamo messi come prima in pratica va benissimo le nostre hard non arriveranno mai alla fine e quasi quasi vado a spingere e provo a rimettere le soft a meno che gli altri con le medie gli altri come stanno messi eh probabilmente loro ci arriveranno alla fine andiamo a vedere anche perché possono gestire il vantaggio conservando le gomme noi invece no quello è il punto sono questi dei doppiati noi doppiati noi doppiati noi doppiati no ok fortunatamente li becchiamo in rettilineo ok merda sti doppiati che cazzo sta non fa i doppiati scusate Latifi Albon sta cazzo di Williams va bene un po' di recorburante lo recuperiamo ok chi vabbè Russell supera Puckier ma scusami allora che cazzo era cioè vabbè erano affiancati cioè non è che ha sorpassato lì poi ci sono stati sempre affiancati ma il nostro Puckier ne aveva di più guardalo quanti quanti cavalli in più ha zero o qualcosa ehm andiamo avanti gas lì dai cazzo vai un po' no buttacelo un po' di bomba nel serbatoio no bevitela un po' di birra lì butta giusto gas niente rimane dietro science che buono rimanendo dietro science vedete ci sta facendo guadagnare quel carburante che ci serviva infatti adesso possiamo rimettere standard io con l'herz rimango neutro se lo gestiscono loro va bene così lui potrebbe dare un po' di sorpasso volendo se sta dov'è andiamo a vedere Puckier un attimo se la battagliano lì lui sta dietro davanti a nessuno ok credevate che davanti c'era qualcuno tipo Hamilton no invece no Hamilton è a più 12 quindi è al bar che prende il caffè Hamilton quindi noi stiamo lì noi ci diamo adesso un po' di modalità sorpasso qua ok cerchiamo di superare una posizione conquistata dalla merced si è una posizione conquistata e io capisco che tu ma quando lo guardiamo noi succedono ste cose quando no quando non lo caghiamo fa fa bene quando lo guardiamo si fa sorpassare è bella sta cosa dai dai un po' spingi un po' su quell'acceleratore dai che ce n'è ancora e lui sta dicendo sto sotto l'asfalto con l'acceleratore ormai attenzione guardate e vabbè col DRS ok vai così bravissimo abbiamo perso un sacco di batteria ma va bene stai davanti adesso è inutile stare qua ragazzi a gestire accumulo non accumulo io sto così è buona tanto abbiamo consumato quanto se vediamo quando questa barra qua arriva in fondo vuol dire che la carica per il giro è ultimata comunque credo che stiamo all'80% 70 76 forse 78 giù di lì no si sopra l'80% ok va bene vediamo da gas lì e lui sta facendo praticamente la strategia vabbè si può spingere anche con le gomme qua con le gomme dovresti riuscire a farcela in scioltezza vediamo anche un po' di carburante magari ci allontaniamo un attimo ok e torniamo da gas lì gas lì vediamo come è messo qua è sempre dietro science quindi quarti tanta roba ragazzi non siamo a podio però cioè a podio qua con l'alfa taurie è utopia secondo me no però magari questo si schianta che ne sapete voi un problemino al motore una frizione che non friziona no un freno che non frena no la poraccio lo lascia perdere va bene vogliamo vincere la gara ma cioè non è che vogliamo assassinare gli altri cioè devono arrivare tutti vivi quindi però eh giusto un problemino proprio appena appena io dico alla all'anteriore no uno spiattellamento degli pneumatici qualcosa così eh no di gravi basta solo che rallenti poi ne vediamo ok vai così caccia la putana gas lì niente sta sempre lì dietro gas lì noi ragazzi possiamo provare a quanto stiamo 27 minuti di rec quindi proviamo ad andare avanti un attimo così oh no 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 che ha detto c'è stato un incidente in pista safety car ok era quello che tutti stavamo aspettando per recuperare carburante peccato l'abbiamo già fatto porca puttana però le gomme no le gomme le dobbiamo recuperare ok safety car safety car conservativo conservativo spegni tutto anche tu spegni tutto spegni tutto poi ci fermiamo una volta sola ottimo ok aspetta un attimo ci fermiamo una volta solo però in regime di safety car possiamo anche andare a cambiare le gomme eh sapete che non sarebbe neanche una cattiva idea andare a cambiare le gomme perché noi facciamo praticamente una sosta gratis peccato che Gasly sia già passato dalla zona p-stop ma lui ancora no e quindi possiamo mettere le soft adesso io lo faccio cazzo box in questo giro e metto le soft adesso cioè raga questa è l'occasione giusta eh fai vendere il cucchiere perché potrebbe potrebbe svoltarla vabbè che è a 11 secondi eh sì ma tu sei già passato capisci che guarda Albon che anche lui vai box subito ok diretti Magnusen andiamo a vedere cosa ha causato la safety car eh andiamo a vederlo attenzione un chiodo di brutto e buh mamma mia che botta ok spero speriamo che non sia fatto niente ma si sia ammazzato sicuro è morto per la squadra ok si va bene ma è morto mamma mia vai vai box vai box pucchiere vai 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 che adesso lo facciamo gratis sto sto pit stop mentre vediamo con lui vai 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 via 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 siamo decimi siamo decimi abbiamo gomme fresche fantastico anche Ricciardo e Zu si fermano ok ricciardo ai box si va bene noi adesso però dobbiamo tenere eh perché qua ragazzi dobbiamo andare con calma e vedere che cavolo fanno gli altri soprattutto Verstappi nelle Clerc perché se si ferma Verstappi nelle Clerc ci fermiamo anche noi non siamo scemi eh se loro invece vanno dritti andiamo dritti perché 58% degli pneumatici vabbè a parte che no no che cazzo è è crashato è crashato eh vabbè eh ma non mi salva metà gara devo rifarmela ma vaffanculo ok ragazzi siamo tornati qua sono non mi ricordo che nel giro arrivavamo prima però adesso siamo al 41esimo giro però l'unica differenza è che Bucchiere è andato fuori purtroppo ragazzi non ho potuto registrare questo video dall'inizio perché eh mancava mi manca il tempo quindi lo facciamo così eh lo taglio dove è crashato e poi riprendo più o meno da dove eravamo che cazzo è successo l'unica differenza che è Bucchiere e ve l'ho fatto vedere credo è si è schiantato bravissimo fantastico ci ha sfasciato la macchina oh comunque mazza eh cioè ogni gran premio una macchina è sfasciata qua eh hai voglia i soldi che è successo qua ma mi fai vedere niente è uscito un avviso per farci perdere un po' di tempo questo è quanto giusto c'è scritto bandiera gialla che cazzo è successo boh vabbè niente raga quelli non li prendiamo più eh niente quelli non li prendiamo più ma neanche se vuoi che li prendiamo perfetto e credo che ci supererà anche science noi siamo terzi al momento ma non penso che riusciamo a tenerla questa posizione anche perché qua non ci arrivo la fine con questi pneumatici perché la safety car questa volta è uscita gram infatti è uscita gram prima e non potevo farci niente non potevo farci veramente niente qua stiamo neutro forse potremmo provare a risuperarlo ma non credo neanche sia fattibile come cosa ah però lui rientra i box cioè ci ha superato e poi rientra i box quindi noi torniamo terzi eh vabbè ma anche noi ci dobbiamo fermare perché le gomme non credo che resisteranno fino alla fine uno ci può anche provare però quanti giri dobbiamo fare eh dobbiamo fare circa gomme morte una due tre quattro giri ciao eh ci vorrebbe un'altra safety car oppure provare ad andare un attimo leggero vedere se riusciamo a recuperare qualcosa anche se la vedo dura qua siamo molto più lenti con lo status con la modalità leggero su gomme eh vediamo raga è che vedo proviamo così vediamo di riuscire a tenereci la terza posizione magari arrivare a podio se è possibile quello si è fermato e che gomme ha montato Sainz le medie va bene le medie Charles Leclerc è secondo come vediamo bandiera gialla che è successo bandiera gialla qua non lo so c'è un incidente Schumacher vediamo eh vabbè ha spaccato l'ala ma riparte Hamilton indietro sei forse non è un grandissimo problema se sta a sei secondi noi andiamo andiamo leggero raga andiamo andiamo leggero anzi andiamo proprio conservativo vediamo quanto Hamilton può guadagnare a quattro secondi rimetto rimetto leggero e vediamo eh guadagniamo un botte invece 5-5 stiamo perdendo eh una valanga stiamo perdendo altro che qua possiamo spingere un po' di più no perché l'Earth è andato Russell ha superato Hamilton e noi dobbiamo rimettere per forza leggero perdiamo ancora vediamo sì 3-5 eh se riusciamo a guadagnare un paio di giri almeno non sarebbe affatto male 3-4 3-5 3-4 3-3 3-4 eh ci prende poco poco ma ci prende piano piano allora proviamo a spingere un po' di più col motore 2-9 2-8 2-7 no no c'è un cazzo da fare dobbiamo mettere standard purtroppo si adesso è a 2 e mezzo e adesso non possiamo più permetterci di risparmiare le gomme dobbiamo per forza andare se no ci beckerà Russell eh purtroppo raga non lo so se riusciamo a fare 7 giri 7 giri mi sembrano un po' tanti 7 giri mi sembrano tanti rischiare non so ne che se ne valga la pena perché è una quarta posizione a parte che ci fermiamo questi ci superano tutti quindi andiamo ottavi noni 10 ciao non possiamo fermarci quindi ho così ho così cioè ho la valo a spacca raga gli altri che gomme hanno ma gli altri arrivano alla fine sicuro eh si il verstappen sicuro ci arriva le clerke anche Russell anche e Milton anche proviamoci raga 35% le stiamo triturando io non vabbè possiamo vedere dove arriviamo con ste gomme perderemo un po' Russell non ho capito che cazzo sta facendo più zero Hamilton che cazzo di tempi stanno guardando questi fammi vedere la retrovisuale sta là vediamo posso mettere un po' di potenza però non tanta se me la gioco adesso eh no non me la vado a giocare adesso eh ci sta ripigliando anche con vabbè le nostre gomme sono morte perderemo aderenza no non ce la facciamo raga non ce la facciamo la settecar è uscita prima stavolta e quindi niente 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 qua abbiamo spinto troppo con gli pneumatici purtroppo è così io provo anche mettere modalità potenza un attimo ma è da allontanarci un po' di più però le gomme sono morte meglio sfruttare la potenza adesso che magari c'è ancora un po' di gomma piuttosto che dopo e l'abbiamo finita esatto scarica neutro 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 scaricata la batteria fantastico eh sei giri però 32% con le hard non so se la facciamo perché sotto il 30 cominciano a perdere aderenza e rallentiamo un po' quindi due secondi secondo me ce li prendono dobbiamo fare sei giri ancora tra l'altro eh purtroppo la gestione stavolta è andata un po' così è andata molto bene prima però crasha che facciamo niente è crashato così eh 52 questo ci ripiglia due secondi tenere la terza posizione sarebbe tipo un mezzo miracolo eh credo che sai andrà a recuperare sia Russell e si metterà dietro Hamilton le nostre gomme adesso ci dirà eh perdono aderenza Gigio eh vabbè sperando che riesca ad arrivare alla fine gara senza fare troppe cagate il nostro Gasly magari allargare troppo qualche traiettoria andando fuori pista purtroppo rischiamo ma se vogliamo arrivare a cioè che il podio sarebbe c'è proprio utopia e vediamo se riusciamo ad arrivarci quanti giri mancano uno due tre quattro giri più giro finale cinque giri eh vediamo andiamo avanti il pelo veloce 1.4 1.5 merda Sainz come voleva si dimostrare sta recuperando su Russell mi sa che magari ci becca Sainz eh perché magari super Hamilton ci si mette dietro di noi col DRS su cazzi mancano qualche giro vediamo raga vediamo un po' se riusciamo difenderci però non è detto eh c'è troppa strada da fare troppa strada troppa troppa strada signori troppa strada devo spingere un po' col motore vediamo eh ma Hamilton è lì Hamilton è lì Hamilton è lì ha guerrito come non mai Russell anche Sainz pure ce li abbiamo tutti dietro stiamo facendo da tappissimo il treno non resisteremo mai stiamo facendo il trenino dietro non ce la facciamo non resistiamo infatti eh vabbè e infatti quarta posizione per noi forse anche quinta perché mancano ancora quanti giri eh tre giri uno due lo finale quindi niente e adesso abbiamo un po' di DRS vediamo se riusciamo a fare un sorpasso qui per gestire la situazione ma senza con le gomme stiamo messi un po' così eh e alla fine proverò a spingere a bestia l'ultimo giro con le gomme vediamo se ce ne riusciamo a fare qualcosa in più però niente sono morte stanno morendo e e purtroppo questo è quanto allora andiamo a vedere qua visto che abbiamo il DRS qua lo sorpassiamo qua lo sorpassiamo attenzione ci riportiamo davanti però lui ci risvernicia nel rettilineo siamo al 22 io sto pensando se mettere no non posso non posso non posso non posso tirare devo andare con carburante ok andare giù con questo carburante quindi vediamo eh ultimo giro eh ho capito ma guarda qua vediamo 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 di fare un mezzo miracolo si sta per finire il carburante abbiamo capito qui vado al massimo no scusa qui vado sorpasso qui vado attacco vediamo se riusciamo raga ti prego sorpassa sto coso hai sorpassato si abbiamo noi il DRS vero abbiamo noi il DRS fermi tutti ok vai che ce l'abbiamo il DRS forza neutro neutro tanto è finito tutto batteria finito tutto siamo ancora terzi ha tagliato il traguardo noi abbiamo anche un po' di problemi con col carburante vediamo se riusciamo vai 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 che è finito il carburante manca l'ultimo l'ultimo tic zero di carburante no no è finita la benzina non ci credo è finita la benzina abbiamo tagliato il traguardo ma è finita la benzina sì 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 siamo terzi siamo terzi è finita ok va bene va bene va benissimo dai siamo terzi va benissimo ok fine gara oh mamma mia guardo tipo appelo va benissimo così noi siamo lì impalati fermi in mezzo alla pista però quello è l'importante ok abbiamo fatto credo non il miracolo di più va benissimo va benissimo cioè abbiamo gestito centellinato proprio l'ultima goccia proprio l'inerzia e tutto abbiamo calcolato anche il vento gli avevamo detto Gasly scorreggia così vai anche un po' più e niente tutte le risorse le abbiamo usate per fare questa terza posizione guardalo lì sul podio Pierre Gasly e si può guadagnare questi primi punti il primo podio della non i primi punti il primo podio di questa stagione dell'Alfa Tauri che ne ha tanta di potenza e secondo me può darne ancora di più e vedremo come andrà alla fine vediamo va bene saltiamo saltiamo qua eh vabbè dai guarda qua mamma mia terzo 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 Pierre Gasly arrivato senza carburante a linea del traguardo non avevo paura di non averla tagliata che fosse tipo qualche metro più avanti ma effettivamente non lo era e quindi ok eh Pukier vabbè più 29 giri per forza si è riterato gli hanno pure dato la penalità dopo non l'ho capito perché cazzo gli hanno dato la penalità ma va bene visto che era ritirato perché ha causato l'incidente dicevano vabbè ho capito però è uscito si è ritirato e cazzo di secondi gli dai le penalità è già fuori va bene ehm Leclerc 18 punti imprendibile da quel che va bene però noi guarda qua boom sverniciamo George Russell con la Mercedes e andiamo in sesta posizione nella classifica piloti e nella classifica costruttori signori vabbè a parte Aston Martin che sta andando su sulla classifica ma andiamo no rimaniamo quarti rimaniamo quarti però più 15 punti che ci portano a distanziare la Alpine e dietro la Mercedes di un bel po' in realtà però va bene allora andiamo a continuare guarda qua Pergas Lee punti sviluppo 1 e ce lo andiamo a mettere subito lui ha fatto più punti perché lui è nonostante abbia girato di meno ha fatto un po' di più perché si è è uno con potenziale di crystal molto alto e lui vabbè sti cazzi lo lasceremo lì a marcire e vabbè mi dispiace però gli diamo lo stipendolo stesso comunque lui i suoi soldi se li becca non fa niente sta lì ok con lo dottore tengo un'esperienza estra per dire più vabbè sì ma l'esperienza non mi interessa 4 milioni non è male porca miseria siamo arrivati pure a podio vabbè prendiamo un bel po' di soldi la produzione è completata della lettone che tanto ci ha scassato quindi stiamo a posto e ragazzi un po' di gestione prima di salutarci facciamo così andiamo a vedere qua ma come c'è già subito la gara no tra 11 giorni vabbè ho capito gli obiettivi vediamo vabbè ti dico sempre facciamo sempre il massimo ragazzi poi vediamo visto che sono andati bene raggiungi le Q3 Q2 cos'è dodicesimo no assolutamente no la Q2 non è dodicesimo la Q2 me la devi fare guarda ti dico che tutte e due i piloti la raggiungono e conferma qua Q3 aspeta un attimo che cazzo ho fatto raggiungi la Q2 ok raggiungo Q3 però la Q2 che cazzo scusatemi ah posizione in qualifica ah non si può modificare no numero di piloti 1 in Q2 2 va bene e in Q3 1 va benissimo era qua posizione finale dodicesimo con almeno un pilota no e no almeno punti arrivo io ecco ecco con Gasly almeno punti ci dovrei arrivare confermo le modifiche va bene e qui slot di garanzia serie di posizioni qualifiche bla 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 posizioni in qualifica io ti dico che è minimo minimo un nono posto lo faccio sempre ma fai anche settimo dai con un pilota e obiettivo serie positiva ti dico guarda che almeno almeno ma fai ottavo allora serie positiva almeno almeno un 5 gare ti arrivo ti arrivo ottavo in qualifica no speriamo serie posizione finale non si può ah no in 5 gare devo arrivare a ottavo oh cazzo vabbè però ci paga un botto ma vediamo allora un po' un po' è un azzardo questo però secondo me si può fare qualcosa ricompensa potenziale ragazzi è 2 milioni e 3 però c'è una perdita di 400 mila ma vediamo se riusciamo a sgavagnarcela allora l'auto componenti auto mancanti attenzione perché lui il telaio l'ha distrutto completamente e quindi dobbiamo dobbiamo fare un telaio vaffanculo scusate aspetta un attimo prima di fare il telaio vediamo merda manca il telaio vediamo sviluppo componenti auto progetti in corso se noi stiamo progettando il telaio si già sta arrivando un attimo di pazienza e arriva prossima parte in tre giorni speriamo non ne spacchi un altro perché caccia vabbè ha distrutto il telaio questo qua comunque pian piano arriva sta già arrivando tranquilli scusate volevo andare a vedere un attimo qui pance laterali 30 giorni vabbè ricerca sospensioni noi stavamo facendo la ricerca delle sospensioni perché avevamo nuovo progetto non possiamo fare un nuovo progetto perché stiamo già sviluppando altro e poi non avevamo tipo i punti mi pare ok gara si poi ci pensiamo un attimo quindi non è che possiamo far tanto andiamo avanti centro visit è stato completato va bene eh si però ancora 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 giorno giorno mi dispiace ma questo ci porta soldi quindi lo portiamo al massimo è l'importante vabbè il centro visit l'abbiamo visto andiamo avanti andiamo almeno alla gara basta basta che cristo comprenuti auto mancanti e l'autorama mancante andiamo a metterglielo installa sull'auto 2 ok adesso ce l'abbiamo perfetto gruppo propulsore ragazzi andiamo a mettere modifica motore andiamo a mettere questo qua installa sull'auto 2 l'auto 1 anche l'auto 1 ci andiamo a mettere su questo motore qua e tanto sono buoni ancora non è che l'herz va bene insieme a questo infatti c'è questo c'è scatola del cambio modifica anche questa è buona quindi prove libere ci stiamo con questi motori qua con queste modifiche e va bene auto 2 invece scatola del cambio modifica c'è già a te mancava ok perfetto allora siamo pronti per fare le nostre prove libere e email qua non so preparativi per la gara pilota emergente no grazie sono a posto i piloti per il momento contabilità stiamo messi qua una spada sicuramente vedere il consiglio questo c'è il consiglio sta dicendo stiamo a postissimo stiamo facendo un sacco di cose però vorrei capire una cosa io scusate prima di salutarci perché cazzo progetto in corso e va bene progetto stiamo sviluppando l'alettone che arriva tra 13 giorni ma noi quando è che abbiamo ancora le nostre ore di mood per capire le nostre ore di mood quando cazzo arrivano come vedo il calendario oh la ricerca completata i meccanici come stanno messi e vabbè regolazione anteri alettone possiamo concentrarci un po' qua magari grazie ok ingegneri e se li abbiamo se ti tre sviluppo va bene andiamo a vedere anche la fabbrica ragazzi qua al giorno la fabbrica ci costa però è il centro di progettazione che mi interessa allora non lo so ragazzi se perché non me lo fa vedere e se io faccio un nuovo progetto qua non posso non posso qua non c'è vabbè non mi ricordo dove si va a vedere purtroppo però non possiamo farlo e quindi per questa gara stiamo ancora a fermi quando possiamo sviluppare ah no ok ok forse mi è venuto in mente allora strutture no auto magazzino sviluppo componenti auto se noi andiamo a vedere qua tre giorni dalle pance laterali però questo è produzione questo è sviluppo ah ok ok adesso ho capito perché perché qui abbiamo un progetto di sviluppo in corso qui invece abbiamo un progetto di ricerca in corso quindi quando finisce questa ricerca molto probabilmente possiamo fare delle cose andiamo a vedere nel frattempo ragazzi che stiamo più o meno a posto andiamo a fare il gran premio di Spagna la prossima volta la prossima settimana ragazzi ci siamo con il gran premio di Spagna vedremo praticamente solo la gara di domenica andrò a farmi qualifiche e prove libere per conto mio e vi farò un breve aggiornamento inizio video su come sono andate sia le prove libere che le qualifiche quindi grazie a tutti per essere stati come ci vediamo alla prossima da Leon Trip è tutto ragazzi dai commenti con decisioni ciao ragazzi bam non è qua la cam che cazzo io punto sempre là vabbè ciao